Gianni Medescare, core center numero uno, il DFS, è del nuovo trionfo, è un trionfo consecutivo, è una quaresima Gesù, ti sto venendo a prendere Ragazzi è incredibile, è successo, siamo in diretta anche televisione, quindi se volete vedere la bellezza di tutti i componenti dello zoo Accendete la televisione sul canale 66 del Digitale Terrestre perché oggi c'è l'ultima puntata del Festival di San Gimmi E Gerry non è in giacca, non l'invito No, è meglio, è la felpa dello zoo ragazzi Siamo tutti in giacca, siamo elegantissimi Ha ragione e comande A parte Alisei che sembra Allora io sono parito elegante stamattina, soltanto che strada facendo durante la giornata ogni pezzo del mio outfit in qualche modo si è costato Arriva elegantino Elegantino Mi guarda e mi fa Ma mi sono sbroffato la maglietta col caffè Dico vabbè cambia la maglietta Vabbè poi hai messo una maglietta dell'azienda Ho messo la maglietta dei De Pesce Aia Della band che sarà pugnalata alla schiena anche per il tardi Aia Comunque Andiamo ai tardi le 2.02 Prego comandante Andiamo Attenzione Questo programma per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato non è adatto a un pubblico di minori Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo Buon pomeriggio Ciao Petro E benvenuti alla penultima puntata di questo incredibile festival Oggi ascolteremo altri brani e poi lunedì 11 marzo si premierà il vincitore del festival di San Jimmy 2024 Bene, ora andiamo a presentare i presentatori e non di oggi In regia il maestro d'orchestra Pippo Pammieri Alle presentazioni la bellissima moglie di Stefanone Colui che incolla gli acquari con la colla Ecco a voi Letizia Puccioli E poi il grande musicista da piano bar delle navi Fabio Alisei Voi penserete che io stia dicendo cazzate Ma Fabio ha iniziato la sua carriera proprio così Suonando il pianoforte sulle navi prendendo un sacco di mance Come Berlusconi E non ha ancora speso quei soldi Capito Pian Silvio Incredibile Sono come papà Salutiamo Paolo Nois Ciao Che non c'è ma è sostituito dal direttore Truffazzo Salve a tutti Buongiorno direttore Allora come va oggi? Male come sempre Bene bene Lei è stato già scelto per seguire anche il prossimo anno il festival di San Jimmy Un applauso Bravo E poi Marco Mazzoni Come va Marco? Bene Sei soddisfatto del tuo percorso in questo festival? Ma insomma Chissà cosa combinerai questo weekend Sì Ah torni a Miami? Sì Che peccato Perché? Ma è un vero peccato che tu parta Certo Cavolo tutte quelle ore di volo E non potrai manovrare i tuoi play su Spotify Questo è quello che pensi tu Che peccato Sì Peccato davvero Molto E vabbè Ma poi lunedì quando sarà eletto il vincitore E tu Cosa Io cosa Io cosa Io cosa Capitan Marco Nel mondo che non ha ragole Due ore in good times 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 Spavento Briveno Non ti mola mai Non ti mola mai Non ti mola mai Non ti mola mai Capitan Marco Aspetto le cuffie Sti cazzo Sti cazzo Sti cazzo Faci cazzo Sti cazzo Cazzo Buono Fa zio Adidasiciu In diretta tv 76 66 66 85 Ah ma ma Guardia ma ma Guardia ma ma Guardia ma ma Lo zodi 105 Sì Il programma Sì Più ascoltato in Italia Buon giorno Italia Buon giorno Buongiorno, buon venerdì Allora ragazzi oggi dobbiamo fare veramente il record Dobbiamo dimostrare la potenza di questo programma Che purtroppo viene sempre un po' bistrattato Dicono sempre ma lo zo in televisione è pericoloso Oggi noi faremo i bravi Dimostreremo che siamo in grado di gestire una diretta televisiva Ma prima culo 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 No, no Però dovete fare una roba Allora dobbiamo fare il record di ascolti Dobbiamo battere gli ascolti di Canale 5 Senti Che non è difficile di questi tempi Ma voglio dire, cosa cambia? Digitale terrestre ce l'hanno tutti? Mettete il 66 poi fate quello che volete Licenziatevi, andate a casa e mettete il 66 Chiamate i vostri amici, i parenti La nonna, il nonno, tutti Io voglio vedere quella punta che esce dal grafico E tutti diranno Mamma mia, ma questi sono proprio... Cioè questi spacca Nessuno gliel'ha chiesto ma Nessuno gliel'ha chiesto Se fosse anche rilevato il canale Eh vabbè, 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 vabbè Sta a guardare il capello Allora, prima di addentrarci nel festival No, lo facciamo dopo? Perché ieri sera abbiamo vissuto un'esperienza Io lo farei prima Facciamolo prima No, prima C'è una base non troppo triste Non vorrei... No, a parte questo Una base di speranza Una base giusta Ieri sera siamo stati a vedere Food for Profit Questo documentario realizzato da Giulia Innocenzi Che brava Pablo D'Ambrosio Lei bravissima Veramente una donna con le palle Fa molto bene anche con i pantaloni Sì, molto, sì Siamo usciti dal cinema Tutti molto amareggiati Devo dire Ma non tanto per quello che sospettavamo Cioè queste immagini forti Sul maltrattamento degli animali Il vero dramma sono le istituzioni Cioè questo è quello che è venuto fuori Cioè praticamente dovrebbero garantirci Qualità e sicurezza Su tutto quello che mangiamo Invece alla fine Per questo l'hanno chiamato Food for Profit Perché a loro interessa solo il profitto Abbiamo visto delle immagini agghiaccianti Sul discorso animali Ma anche agghiaccianti sul discorso Sanitari Sanitari Sicurezza I dipendenti che sono La maggior parte tra l'altro Immigrati, clandestini Sfruttati Sfruttati come schiavi Se si fanno del male Non possono denunciarlo Non hanno nessun diritto Cioè una roba veramente Io infatti sono stupito Che nessuna rete televisiva Lo abbia ancora trasmesso Perché è un diritto Credo di tutti A me è una cosa che ha sconvolto molto Vedere questi lavoratori Che la maggior parte Arrivano dal terzo mondo Che si lamentavano Dicevano ma che schifo Mangiano gli italiani Sì perché purtroppo Uno pensa Eh ma queste cose accadono Invece no Anche in Italia Non tutti Non vogliamo generalizzare Però accadono queste cose Anche in luoghi Dove tu pensi Che ci sia maggior controllo Sicurezza e tutto il resto Anche in luoghi sponsorizzati Come allevamenti Che rispettano gli animali Perché basta dire Gallini allevate a terra Scritto sulla confezione Basta dire questo E tu pensi a terra Effettivamente sono a terra Ma in che condizioni Senza lavare i pavimenti Una roba veramente agghiacciante Vi invito a seguirli Sulla pagina Food for Profit Così magari trovate il cinema Che lo sta trasmettendo E alla fine io dico La cosa più grave Sono i medicinali Perché gli animali Sono tutti ammalati Essendo maltrattati Quindi tumori Cancrene E robe varie E cosa fanno? Con medici che non sono medici Gli somministrano antibiotici medicinali Fin da piccoli Fin da vitelli Esatto E quindi cosa succede? Che noi diventiamo piano piano Antibiotico resistenti E questo può causare Infezioni Malattie Virus Gente che potrebbe superare Tranquillamente una malattia Con un certo tipo di antibiotico Adesso ci crepa Io ad esempio infatti Sono talmente pieni di antibiotici Che io quando ho la tosse Mangio una mucca E mi passa Certo Io la giuccio e basta Per rispetto Quindi in sintesi Questi signori Ci fanno ammalare Così poi ci vendono la cura Hai capito? I furboni Perché tutto alla fine Finisce lì Il denaro Dunque guardatelo Volevo fare i complimenti Sia a Giulia Che a Pablo Hanno fatto un lavoro pazzesco Grande coraggio Anche perché guardatelo Perché le immagini Quelle che pensate Potrebbero darvi noia Per il maltrattamento degli animali Sono forti Ma non inguardabili No infatti è vero A parte Stefanina La moglie di Paolo Che ha passato tutto il tempo Ma era nel film No Sette punti sul mio ginocchio di destra Va bene Comunque ci tenevo a dire questa cosa Perché veramente Mi ha sconvolto un po' Ha sconvolto un po' Tutti gli elementi Dello zoopresino Ci ha amareggiato tutto Fabio devi vederlo Devi guardarlo Lo andrò a vedere Promesso Però adesso ci addentriamo In una cosa importantissima Che è il festival di Son Jimmy Non ci sarà cazzi C'è soltanto San Jimmy La televisione Ci sta sui coglion Sarremo l'altra Ci hanno rotto un po' La casa Ma quando arriva il suo momento Io sento il godimento Perché so che ne lo do Finalmente C'è San Jimmy Signore, signori e fluid Va ora in onda Dal teatro Aristronze di Milano Il festival di San Jimmy Letizia Puccioni Quinto e ultimo giorno di gara Per questa edizione fantastica Del festival Che nessuno ci ha chiesto Esatto Una grandissima edizione Ci tengo a ribadirlo Che mi ha reso orgogliosa E fiera di averla presentata Quindi le rivolgo Caro direttore Sì, grazie Il mio più sentito Grazie, grazie Grazie, grazie Ieri mi ha detto che era una merda Comunque grazie Non io portavo il derelato Non vale Mi scusi quando tu dici L'hai interrotto Mentre faceva una stories Cioè chiede almeno scusa Stavamo mandando tutti A votare sul Telegram Perché vorrei ricordare Che di là stanno impazzendo I ragazzi venuti dall'India Perché oggi abbiamo messo Il palatrucco No, cioè? Cioè nessuno può più truffare Oh Quindi vince Gio Lee Anche qua Ma mi scusi Però non vale Adesso che voglio truffare io Mi scusi Questa è la cosa che mi fa ridere Andiamo avanti Oggi sentirete per l'ultima volta In onda Tutte e 15 le canzoni in gara Nella stessa modalità di ieri Ovvero un minuto per ciascuna In 5 medley Va bene? Ok Con tre canzoni ciascuna Con tanto di video tra l'altro Sì Bravo Vi ricordo quindi il sistema di voto Composto dalle quattro giurie La giuria della sala stampa Che lo ricordiamo È brutalmente cambiata Per volere del leader Maximo Ops Direttore E adesso Il caudillo Dai colleghi del Digital E non più dalle integerrime Colleghe della redazione La giuria di qualità Con un nuovo ospite Che arriverà tra poco Gli streaming su Spotify E la giuria popolare Con il voto su Telegram Sul profilo L'Isola dello Zoo Interroccabile da oggi Ricordiamo Dalle 16 si riaprirà il sondaggio Su Telegram E resterà aperto Dalle 16 per tutto il fine settimana Fino a lunedì Alle 13 e 30 Che schifo Spero ci sia il wifi sul mio volo domani E speriamo anche noi per te Quindi adesso vi ricordo la classifica provvisoria Di ieri Ultimi ancora i golosi Con Frappè al cioccolato Invece il podio vede Terzo Marco Mazzoli Secondo Johnny Mele E primi per il quarto giorno consecutivo I De Pesce L'ultimo momento di gloria Prima di sprofondare nell'infamia Non l'hai detto Come al solito Non l'hai detto Attenzione Prima di dare la linea a Gerry Romano Devo sempre se il direttore me lo permette Dare spazio a due lettere Giunte questa mattina Una da Sabrina Bambi Che ha scritto un testo divertentissimo Utilizzando i titoli di tutte le canzoni Ma che ai noi è troppo lunga Facciamo la radio Sabrina E che diamine Quindi vi leggerò solo i ringraziamenti Che sono abbastanza divertenti Anzi molto Grazie di questa settimana entusiasmante E di avermi definita Più volte la tenera Sabrina Bambi Con questo glow up Assurdo Passare dall'essere una balena Ad una ventresca di tonno Da spezzare Con un grissino Brava Simpaticissima Che va forte sugli stream Tra l'altro Credo che sia prima negli streaming Sì 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 Sta spaccato Sabrina è prima negli streaming Perché abbiamo Abbiamo sospettato Che il nano nel video Fosse il suo amante Ma non è il nano Ieri era normale No è il suo fidanzato No è telescopico Lei nel video Appare con questo nano E ci siamo immaginati tutti Insomma nelle scene meravigliose Maestro di musica E poi la lettera Della sala stampa Nuova Sì prego La nuova sala stampa Ci tiene a ringraziare Innanzitutto L'apostolico Direttore Truffazzi Per la fiducia A noi accordata In seconda battuta Ringraziamo fortemente Tutti i partecipanti Alla gara In particolare Quelli che si sono distinti Nel cercare Di incontrare Il nostro favore Presentando balocchi Costumi E doni di varia natura Ed entità Anche in genere Di conforto Sì Siamo piacevolmente colpiti Dal fatto che sono state Individuate Perfino le nostre Abitudini alimentari Assecondando così I nostri gusti Per i motivi di cui Sopra ci è parso chiaro E naturale Premiare sì il talento Ma anche la creatività E l'impegno Nel cercare Con ogni mezzo possibile Di scalare la classifica Questo perché San Gimmi è San Gimmi E il talento da solo Non basta Per essere il numero uno Quindi Firmato la nuova sala stampa Ufficio Digital Radio 105 PS Siamo in partenza Per Punta Prosciutto In Puglia Viaggio gentilmente offerto A tutta la nuova sala stampa Dal più generoso Dei partecipanti In gara Ho offerto una Volkswagen Golf Oggi Un paio di gold Alla sala stampa Volevo dire solo due cose Ricordatevi Di chi chiede le cose Per favore Ricordatevi Di chi non dice mai di no Ma adesso Lina a Gianni Romano Amici Buongiorno Buongiorno Diceva Oscar Wilde Le donne sono fatte Per essere amate Non per essere comprese Rispondeva Zucchero Donne Du 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 In cerca di guai Concludeva Vasco Rossi Con No Ma non è attinente E così Questo ultimo collegamento Della settimana Con la sala stampa Del festival di San Jimmy Si tinge Del giallo della mimosa Del rosa di Peppa Pig E anche del blu Dell'unghia Del mio alluce sinistro Prossima a cadere Dunque auguri A tutte le signore e signorine Grazie E all'ascolto del vostro Gerry Romano Bravissimo Cari amiche Amici Vi aspetto dopo Per prenotare il mio spogliarello In perizoma Quest'anno ne ho preso uno Con l'elefantino Che esalta la mia giungla Chiamatemi Mogli Porcelline Ed è proprio in omaggio A questa ricorrenza Che il santo Santissimo Bellissimo Direttore Trufazzi Ha attributato Trenta punti di bonus A tutte le concorrenti In gala Al festival Rimestando La classifica Come una ditta Di spurghi Con un tombino Ozzurato E non importa Che le solite Ma le lingue Attribuiscano Il gesto Dell'apostolo Ossigenato Al fatto che Stefanina Moglie del suddetto Abbia minacciato Di cucirsi la passera Col fil di ferro Se non arriva Almeno quinta In classifica E nemmeno Che questa mattina Sabrina Sbambi Abbia fatto irruzione Nell'ufficio Bustarelle E mal costume Carica di regali Come un elicottero Dell'Unicef Che schifo Ascoltate cosa hanno registrato Le nostre telecamere Di sorveglianza Ma le abbiamo Prego Buongiorno A tutto lo Zodi 105 Ma soprattutto Tutto al cast Del festival Di San Gimmi Integrale Sono venuta In senso motorio A portare Dei doni Un regalo Per il direttore Il bel direttore Il bel direttore Si Tutto l'allegro Mi riferiscono Le fasi finali Della Kermes E parlo Dei 9 milioni Di voti Arrivati ieri Su un telegram Da 80 mila iscritti Indiani Dei segreti Accordi Fra Paolino E Johnny Nella tromba Delle scale Per ottenere Per ottenere Con la vittoria Nessuno Ce l'ha chiesto Grazie Io Sottolineo una cosa L'onestà Paga sempre Io so di essere stato onesto Fino adesso No sei stato coglione No 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 Io so che l'onestà pagherà Pagherà e arriverà No perché l'anno scorso l'ho perso Non l'ha mai pagato Ma smettila che hai barato anche l'anno scorso Ma vai Ero in testa fino all'ultimo secondo Poi la Puccioni No no Io sono donna C'ho la fica Votate dall'altra parte Non l'ho detto Sì hai detto che avevi la fica Sì sì L'ho sentito anch'io che avevi la fica Facciola vedere Non ci crediamo Vergogna Allora oggi partiamo con Stefanina Paolino Martin E gli scambisti Pronti? Paolino e Martin Magia della Turchia Magia della Turchia Dei scambisti Equilibristi Siamo scambisti Un po' esibizionisti Ragazzi che gara Che gara Ma solo con te l'anale E' bellissimo Poi mi piace il video Perché a un certo punto Vado con gli amici Vedi che si dividono Bellissimo È ingiustamente bassa In classifica Sì non so perché Non hanno apprezzato Questa canzone Perché in realtà Loro sono veramente Degli scambisti professionisti Secondo me perché I giudici erano molto bigotti Può essere Adesso abbiamo cambiato Anche la sala stampa Quindi sai che Diego Che sono dei maiali Lo sappiamo Ma non è vero In camera d'albergo Mi annoiavo Spippolavo la televisione E finisco su un canale Della Rai Sai quelli Tipo Rai Zuzzurro Quelle robe assurde Che c'è solo Gaspar E' stranissimo E c'era questa serie televisiva Che si chiama Che Dio ci aiuti Ed è questa serie Diciamo interpretata da suore E robe varie E dico ma che palle Cambio canale Passo al canale successivo C'è lo stesso programma Solo che anziché essere Sottotitolato Era per non vedenti Quindi schermo nero Raccontato Viene raccontato Perché ci sono dei dettagli Che se non li vedi Non li puoi capire Però c'è la mano sullo schermo Che ti dice cosa stai guardando No Se scannalavi avanti di uno C'era quello per gli albini Dove tutti i protagonisti Sono insensatamente bravi La Rai è inclusiva ragazzi Quindi dico vabbè Me lo guardo un attimo Interessante sta roba In realtà la voce narrante Non spiega un cazzo Cioè non si capiva niente Si dimenticava Dei dettagli fondamentali Io da non vedente In quel momento E quindi? Cosa? Chi? Abbiamo un po' riprodotta E abbiamo realizzato La nostra versione Oggi si parla di un delitto Cambia Non spaventatevi Non c'è il cincischione oggi No Non c'è Non c'è Prego andiamo Rai Charles Il canale per non vedenti Della Rai presenta Che Dio ci aiuti Trasmettiamo ora in onda Una versione per non vedenti Si Una voce narrante Accompagnerà i radioascoltatori Nella comprensione delle vicende Con una puntualissima descrizione Delle parti non dialogate Buon ascolto Grazie Rai Ficco In collaborazione con Produzioni Production Presenta Il delitto del conte Siguritti Piripiripù I protagonisti Giancarlo Strozzaluna È Mario Fognapietro Laura Carlo Gianni È Maria Fognapietro Gianni Longobardi È il notaio Fognamaria Petra Bagnoluccia Petra Bagnoluccia È la contessa Siguritti Piripiripù Valerio Maggiordomi È il dottor Contessi Alfredo Dottori È il maggiordomo Batman Bruce Battelli È il conte Siguritti Piripiripù E con la partecipazione straordinaria Di Roger Froschenbauer Nei panni Dell'ispettore Sgami Regia di Laura Fottincasa Voce narrante Angelo non svelato Salve Angelo Paga il canone Pezzo di merda È notte piatta E ci troviamo nella sala da pranzo Del famoso castello di Rocca Sfocata A una tavola imbandita di pietanze edibili Siedono il conte La contessa Il notaio Il dottore I coniugi Fognapietro E l'ispettore Sgami Entra il maggiordomo Batman Con in mano un vassoio Contenente la testa mozzata E sorridente di Luciano Ligabue Oh, finalmente è arrivato il dolce Grazie Batman Appoggialo pure qui Ci pisceremo sopra più tardi Sono Batman Come desidera, signor Conte Sono Batman Non c'è bisogno di rivederlo ogni volta Batman Il maggiordomo Batman Appoggia il vassoio Con la testa mozzata di Luciano Ligabue Sul gufo di cristallo strabico E arretra lentamente Scomparendo nel buio Gli ospiti del Conte Siguritti Piripiripù Appaiono visibilmente sconcertati Perché? Scusa Sono sconcertati Sono sconcertati Sono sconcertati Sono sconcertati C'è visco dello sconcertato Che sensazione è questa? Sconcertato Sconcertato Scusate Vi vedo sconcertati C'è per caso qualcosa che non va? Sì Conte Ad esser sinceri Pensavamo che avremmo pisciato subito Sulla testa di Ligabue sorridente Già Se si fredda poi è un peccato Io è meggiora che la sto tenendo Tesoro Non essere scortese con gli ospiti Lascia che piscino sulla testa di Ligabue Questo è un affronto Esigo che si pisci immediatamente Sulla testa di Ligabue C'è il prossimo di protesta 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 Il prossimo di protesta Il prossimo di protesta Silenzio Silenzio Non vi ho radunati qui Semplicemente per pisciare Sopra la testa di Ligabue Ah no? E allora perché ci ho radunati qui? Sigur o Paresi? Paresi Spiace Comunque Ottima domanda Ispettore Sgrami Vi ho radunato qui Per mostrarvi questo Cosa? Il conte preme un pulsante Il tavolo si apre E ne esce una mano meccanica Che preme lo stesso pulsante Improvvisamente L'armadio alle spalle del conte si apre Rivelando il suo contenuto Cosa? Ah come si fa? Cosa si è però? C'è anche una musica Vuole una cintura appavata Sbore Eiaculazione Rivelando Portatevi all'ospedale Prego Signori Quello che vedete alle mie spalle E' il motivo per cui vi ho radunati qui questa sera Cos'è? Ma è davvero quello Che penso che sia? Cos'è? Quando si verrà a sapere Lo soffranno tutti Sigaro o dente del giudizio? Sigaro Ah Comunque Me ne rendo conto ispettore E' per questo Che ora voglio proporre un brindisi A cosa? A quella cosa l'indietro A quella cosa l'indietro A quella cosa l'indietro Non sappiamo cosa sia Improvvisamente va via la luce Quando ritorna Una delle persone presenti alla cena E' distesa a terra Quale? Priva di vita e vestiti E' il conte Siguritti Pirpiripur Ce lo dice Ce lo dice Alla vista del cadavere del marito La contessa preme un pulsante Che la fa svenire Gli altri ospiti guardano il corpo senza vita Usando gli occhi Oh cielo Qualcuno ha ammazzato il conte Non l'ha semplicemente ammazzato L'ha svestito a morte L'assassino deve essere per forza qualcuno Ma chi? Chi? Chi può essere? Chi può essere stato Fra tutti quelli che potrebbero essere Io non sono stato Io non so uccidere al buio Temmo che il colpevole Abbia commesso un errore Mi scusi Sigaro o stitichezza? Scioccano filattico Perdoni Forse non dovevo mettere le mandorle L'ispettore Sgami Si china sul cadavere E indica un indizio Quale? Tutti vedono l'indizio con gli occhi E noi no Davvero? Davvero sono arrivato in ritardo Questa è una prova schiacciante Ora possiamo fermare con certezza Identità più colpevole Mi scusi Sigaro o limonata troppo forte? Limonata La profina del conte È questa persona Quella persona Quella persona E' stata fatta con l'altra Anche Non la vediamo Forse è quella dietro No non fiatare La prova è schiacciante Eh no Ti dichiaro in arresto Per l'omicidio del conte Chi è? Burito Mi scusi Lurdo o Meciugori? Meciugori Benissimo Anche più vicino E ora porto questa persona Alla centrale Voi rimanete pure qui A terminare la vostra cena Meno male Ma chi è? Meno malissimo Stavo proprio per fare addosso Ma chi è l'assasino? Non so bene l'acqua Meno male che l'hanno beccato Chi è? Chi era? Poi con le scarpe Vi starete chiedendo Ma che fine ha fatto il cincischione? No E che fine ha fatto lo sciupafiga? Eh sì Bella domanda Molto bella davvero Eh sì Significa che siete dei veri fan della serie Esatto Il cincischione è a fare il tagliando in un'officina autorizzata di cincischioni E lo sciupafighe è finito alle belle arti per essere rimesso a nuovo Abbiate fede Pagate il canone Rai E non rompete il cazzo Paga il canone Pezzo di merda Perché ancora? È l'assassino? È un po' aggressiva come comunicazione Ma l'assassino? Chi è l'assassino? Non lo so Devo pagare il canone perché mi sento tirato in causa Ma vede che era scusa? Sì Dobbiamo fermarci per la pubblicità? Sciocca una fiatico? No Ho dormito malissimo No DNA San Jimmy 2024 Nuovo sistema di voto Nuovi personaggi veramente famosi Ospiti d'eccezione Torna tra poco Bello dentro Pare Mi zio Ha una pelle di truscia A parte i peli sul tetto A me sembra molto femminile I golosi Frappè al cioccolato Era solo sesso spietato Ma è diventato Un frappè al cioccolato Marco Mazzoli Complottista Complottista Che bello sto pezzo Quanto è bravo il cantante Bravo Matrix Bravo Matrix No ma ragazzi la roba che mi fa ammazzare da ridere Perché ricordando che siamo in diretta televisiva sul canale 66 digitale terrestre Esatto Col pallino rosso Col pallino rosso Siamo vietati ai minori Posso dirlo Mamma il pallino rosso Oddio Se andiamo in stand by Sembra che abbiamo tutti la varicella Capito Il morbillo Eh vabbè i contenuti sono fatti Eh vabbè ragazzi Dai una puntata speciale L'ultima puntata ufficiale Perché poi lunedì si parleremo ancora di San Jimmy Ma Ebbè è il vincitore Per decretare il vincitore Ma pensa la sciura che lì che stava guardando la televendita di Quadretti Scanala e sente frappè al cioccolato Ma cos'è questa roba Ma secondo me la signora comunque Eh ne ha fatti di frappè Ne ha fatti di frappè Anche la fragola Senti allora tornando invece un po' a quello che è l'attualità C'è una bella notizia Biden ha fatto finalmente Non so se è una sua idea Ha fatto una bella cosa Hai letto? Cosa ha fatto? Allora ordina Si è dimesso No magari Ha ordinato l'esercito americano di creare un molo per gli aiuti a Gaza Vabbè questo mi sembra giusto Quindi potranno arrivare le navi con medicinali, cibo, acqua E armi Se li fanno passare perché al confine con l'Egitto ci sono 15.000 camion Che aspettano di entrare per portare gli aiuti Ha specificato che non ci saranno comunque i soldati americani Quindi do ragione a te probabilmente Ci saranno delle conigliette Però è un bel gesto Nonostante l'America sia la causa di questo Però un po' si pulisce la coscienza E questo te lo fa capire Forse il fatto che tutto il mondo è un attimino allibito da quello che sta accadendo Forse quello ha svegliato un po' le coscienze Come dicevano i romani Marco la mano destra non sa ciò che fa la sinistra Complutista È un detto A suo romano destra Ci ricorda il buon Jerry Romano che è Seneca È Seneca è vero Invece l'altra notizia è che hanno beccato il figlio quello più grande di Umberto Di Umberto Bossi Riccardo Bossi con il quale avevo corso una volta Ti ricordi tanti anni fa ho fatto un rally Sei sempre pieno di buoni amici Frequenti persone meravigliose Poi abbiamo avuto anche un piccolo disguido Perché gli avevo venduto la mia macchina In realtà era rimasta intestata a me Aveva preso tipo 20.000 euro di multe Ha fatto bene Che ho dovuto pagare poi io Certo Oltre a tutta un'altra serie di danni Pare che lui abbia praticamente truffato lo Stato Prendendosi Si può Il reddito di cittadinanza No dai Ma poi Così dice Parlando di cifre tu dici Beh si sarà fottuto 2 milioni di euro Eh no il reddito di cittadinanza quello è Sì ma 12.000 euro Cioè tu ti sputtani per 12.000 euro Sì peraltro gli hai sottratti magari a qualcuno Che ne aveva realmente bisogno Beh lì è successo con tanti altri Ragazzi è il fratello del trota comunque Non è che stiamo parlando proprio di gente che lavora al set E poi Sanremo striscia 7.000 voti non conteggiati 700.000 700.000 voti non conteggiati Ma il servizio non va in onda Perché non è andato in onda il servizio? Perché non l'ha mandato in onda? Perché dovrebbero rifare tutta la classifica di Sanremo Cioè succede un puttifero Ma dove l'hanno trovati però questi 700.000 voti non conteggiati? Non lo so hanno fatto un'inchiesta Vedi se avessimo visto il servizio ma qualcuno non l'ha mandato in onda per paura Non vorrei dire una cagata ma qualcuno che era lì Perché noi comunque un po' di amici che sono cantanti Sospettavano Sospettavano che ci fosse Qualche messaggino a noi Privatamente ci è arrivato qualcosa non sta funzionando Perché si sono bloccati i conteggi Il fatto che Jake Lafuria un mese prima ci abbia mandato la classifica finale a tutti su Whatsapp Un po' ci ha lasciato perplessi Io non ho fatto nomi L'avevano segnalato in diretta però Che c'erano dei problemi con le votazioni Problemi con le votazioni Anche l'anno prima con Lazza stessa cosa Il problema sulle votazioni è che non stava vincendo quello che dicevano loro Quello era il problema Secondo me il problema è che Sanremo aveva la stessa sala stampa che avevamo noi fino a ieri E quindi i meccanismi su quelli E Amadeus non è uno smidollaggio rispetto Se devi truffare lo devi fare bene Il nostro Truffazzi è un professionista della truffa Il caudillo Mi perdoni signor Truffazzi sono l'avvocato Pistacchio Allora senta il mio assistito è un po' infastidito signor Mazzoli Perché era convintissimo Oggi di fregare tutti Pensava di vincere proprio a mani basse Invece ha visto che c'è dietro tutta una loscaggine Allora perché lei deve capire Io le volevo soltanto dire Mi scusi e concludo Io la porterò in tribunale e la farò arrestare e le darò l'ergastolo Anche lei? Sì Sono raggironi dell'ufficio malefatte e crimini oscuri Sì Abbiamo cambiato il titolo perché nell'altro ci sono i nas Prego Proporrei 10 punti di penalizzazione per il piagnisteo No perché sono l'avvocato Ma non all'avvocato Le abbiamo già decurtati credo 10 stamattina per il piagnisteo 10 e 10 No no scusi lei stamattina me le ha dati 10 perché io mi sono lamentato del premio che ha dato Ah glielo dati? Sì Allora glieli sottraggono No 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 Notaglia segni meno 10 punti per il piagnisteo Stasera le offro la cena Notaglia segni più 50 punti Grazie Molto gentile grazie L'ha detto però se non lo fai gli alcuni del curto lunedì Anzi facciamo così le offro la cena a lei e alla bellissima moglie che ha Allora signorina faccia così segni 55 non posso esagerare Mi scusi Mi scusi Sono sempre ragione Va bene così Stasera siamo da borghese Paga borghese No pago io Pagli per tutti Pago per tutti Allora attenzione Un attimo Se non offre borghese Signor concorrette Pago io Stasera offre Paga per tutti Tutti Quanti punti dovrei dare per questa cosa 50 però se paga lui Secondo me 80 Grazie Molto gentile Allora notaglio segni Se il signor Mazzoli stasera paga la cena a tutti Se non offre borghese 80 punti a il signor Marco Mazzoli Grazie molto gentile Grazie a lei Lei ha appena capito come funziona Riferisco al mio cliente Grazie mille Ragazzi ci colleghiamo con un blocco Anche se oggi è l'8 marzo Avremmo dovuto mettere via Woman Esatto Abbiamo pensato che Il ruolo della donna Nella società odierna È spesso molto conflittuale Nel senso che Parliamo sempre più spesso di donne In relazione Proprio allo scontro con il maschio A questa società patriarcale Che è sciovinista Quindi abbiamo creato apposta Una puntata di Si Uomo Tutta in relazione alle donne Dando dei consigli agli uomini Che finalmente l'8 marzo Devono capire come ci si comporta Con una donna Ci sta Una puntata speciale Si parla comunque sempre di uomini Le toglierei un 20 punti Al signore qui di fianco Per troppo professionalità Troppo saccente Adesso lo esageriamo Saccentezza Sto tanti punti Troppo Sto esagerando Andiamo dai sentiamolo Dall'alba del terzo millennio C'è un solo animale A rischio estinzio Una fottuta Povera Bestia Che sta sparendo per sempre Dalla faccia della terra Il maschio alfa Ma il cambiamento non è irreversibile Tu puoi combattere Per ricominciare a puzzare Si uomo Adesso Le donne fingono l'orgasmo Gli uomini fingono di amarle Dunque Si uomo Se tua moglie vuole fare colazione a letto Falla dormire in cucina Si uomo Tutti capaci con le fighe Fatti una chiattona Si uomo Siamo democratici Quando tua moglie ti saluta uscendo di casa Tu rispondi Era ora Si uomo Ma no Vieni sentito Prima di andare a scopare Segati su un'altra Si uomo Si arriva in forno Moglie fica Amante porca Sempre Si uomo Vedi come diversifica Mamma mia Non aspettare mai tua moglie sulla porta Scendi in garage E attaccati al clacson Si uomo Si uomo Quando la tua ragazza ti manda un lungo messaggio intimo ed emozionante Rispondi con l'emoji del pollice mulatto Si uomo Non rovinare il momento Fai sexting con una tipa su snapchat e quando hai schizzato bloccala su tutti i social Si uomo Se no si affezione Non cambiare per una donna Cambia la donna Si uomo Alle donne col cane piccolo piace l'uomo col cazzo grande Alle donne col cane piccolo piace l'uomo col cazzo grande Ricordaglielo quando ne incontri una Si uomo Lascia la tua ragazza due giorni prima del suo compleanno E poi rimettiti con lei la settimana dopo Così non devi farle il regalo Si uomo Così non sbagli no? Se ti dice che è al ciclo Chiedile il c***o In automatico Si uomo Il cuoco Il cuoco Il cuoco Se tua moglie sta piangendo Non stare lì senza fare niente Esatto Alzati E vai in un'altra stanza sbuffando Si uomo Accetta di fare terapia di coppia E mandacela da sola Si uomo Più bravo lei Se lei non ingoia Fallo tu Si uomo Si aiuta in casa Dio mio Mamma mia quanto siamo stupidi Adesso ho capito perché non andiamo in televisione Ho capito tutto È molto chiaro È molto chiaro Ci fermiamo un secondo È arrivato l'ospite del giorno Lo possiamo anche dire No no è un grosso ospite George Michael è con noi Seguito da Michael Jackson E da David Bowie Infatti è pieno di mosche di la casa E poi c'è Prince Voi avete riconosciuto Lui l'ha appeso Avete riconosciuto qual è l'urna di Michael E quale è quella di Prince Si Non vorrei sbagliare La più chiara è di Michael Tutto questo e ancora peggio È San Jimmy 2024 Il festival che nessuno ci ha chiesto Break Un'ora e venti Perché un gruppo mi assale Qua per svitalinare Tengo il tunnel scarpale Tutto quanto fa a me Paolo Noiz Fanculo ai duemila Me ne sbatto il cazzo Degli anni novanta E va a fanculo ai duemila Senza glutine Pippo Terzinato Non sei in camera tua Ma io ho preso una pasta Prima di entrare Sì ma al pesto Credo che si sia capito L'ospite di oggi Credo che l'ospite sia Già stato svelato Però lo presenta La nostra chicca C'è una presentazione Anche perché siamo in televisione Ma che ti metto le mani addosso Stai attento Allora raga Sono venuto qua per sfatare Questo mito Che Mazzoni mi minaccia E io ho paura di lui Se gli do uno schiaffolo Manda a fare l'ambasciatore Scusa Ma quindi non è vero Che hai paura di lui Io non ho paura di nessuno Di voi Pisciaturi Presentazione Prego Andiamo È il momento Dell'ultima guest star Del festival di San Jimmy Di certo È il più pesante Degli ospiti Di questa Kermess E non parliamo di celebrità Viene dal ghetto Come Paris Hilton Frequenta i capi Della gang Tipo Beppe Sala Ha la pelle coperta Di tatuaggi Ma ha il portamento Di Winnie the Pooh E per tutte le cattiverie Che gli stiamo dicendo Qualcuno di certo La pagherà Ma non io Non io La pagheranno Cito Ma sono questi qua È merda Che è l'attore lui Non è finita Capo stipite del rap italiano Primo in classifica Nonostante l'età avanzata E in palese conflitto Di interessi Visto la sua partecipazione Alla gara nel brano La tromba Di Stefanina C'è chi è più Molto di più È con noi Jake La Calma Al secolo Jake La Fuglia No ragazzi Volevo sfatare questo mito Io non sono Jake La Calma Ma smetti La Calma è il mio rapper preferito Non esistono altri rapper Più grassi di te È come il sosia Beh no Sì è vero È come il sosia di J-AX È presente Quello che va in giro A fare le serate Che sospettavano fosse venuto La festa dei vent'anni dello zoo In realtà era quello vero J-AX vero Scusate Era quello vero Anche i Daft Punk Erano vere la festa dello zoo Allora senti Prima domanda Se sei preparato veramente Ascoltato tutti i pezzi Sarai un giudice onesto Voglio essere sincero con te No 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 a quale delle domande Ho sentito Abbastanza pezzi Per fare una classifica Allora cosa succede Mi trasformo in truffazze Allora ragazzi Scusate Dopo un festival Che è iniziato con dei giudici Molto preparati Sì Abbiamo deciso di mettere Come ultimo Il ciarlatano Di scendere un po' No In realtà di mettere Proprio la versione della strada Cioè l'uomo Che non gliene frega un cazzo E pensa alla fica Mi scusi Quindi però palesemente Aspetti un attimo Che mi tra Aspetti che metto la giacca Una persona facilmente Anche gestibile Un attimo Mi scusi Nel frattempo faccio i complimenti A Geki La calma Per la rima Quella della fellazio corretto Secondo me È la cosa più bella Di tutto il festival Mi scusi Mi scusi Sono l'avvocato Pistacchio Salve avvocato Ehi è venuto in barca Sono venuto in barca Certo Perché sono molto ricco Capito in barco Non è che è il commodoro Pistacchio Sì Allora Questo signore qua Mi fa un po' troppo lo spiritoso Sì Glielo può spiegare Che io sono laureatissimo Ma quale signore Quello di là Quello? Sì No no glielo spieghi lei No Io sto girato così Così non capisco Da che parte arrivano le parole Speriamo che leghi il mio labiale Io proporrei Dieci punti di penalità Paolo Nois Per la palese codardia Sì 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 E io li accetto Dieci punti di penalità Paolo Nois Per la palese codardia È un direttore bravo Ma poi raga Volevo dire una cosa Siccome avete fatto poi In questi giorni tutto Con della gente qualificata Ma no C'era Papi ieri Vabbè Papi comunque È stato bravissimo Papi comunque Lavoro con la musica Da tanti anni Volevo dire che io Sono venuto qua Anche per Ho fatto comunque Degli imbrogli Delle robe capito Cioè volevo dirvelo Che io oggi Vi incasino tutto È venuto a costituirsi È questa la bellezza Però mi scusi Ve lo metto in culo Come succede Mi scusi Dottor Truffazzi Sì Però quest'uomo potrebbe Semplicemente dare dei voti Che favoriscono Lei e la sua consorte Ma quando mai Ma chi Ma chi la No 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 Tra parentesi La mia consorte L'ha anche portato Fisicamente in radio Sì sì Proprio c'è una roba E si è fatta firmare Un tatuaggio Addirittura E nell'altra mano Ha un taser acceso Cioè Questo non vuol dire Stolti noi Che abbiamo pensato Una cosa del genere Ma scusa Ma una che si fa tatuare Il nome della persona Che oggi potrà decretare Diciamo La classifica finale Si è fatta tatuare un braccio Andrebbe esclusa Dalla classifica Proprio Andrebbe buttata fuori Dal festival Lei dovrebbe fare lo stesso Allora senti Se mi tatui Il buco Della Qua Dell'ano Oh che bello Sembrava Ti ricordi Moncici Cazzo di peli Sul culo Ti faccio vedere Che ha messo una mano Alla cintura Quando si sede Una mano Alla cintura Oh Jake Non farei troppo Simpaticone Va bene Dai dai Che sai che io C'ho le mani facili Entriamo nel vivo Stai minacciando fisicamente Mi piace tantissimo Tanto so che non mi picchierà mai Ma che cazzo Mi vuole bene No ma lui usa il telefono Per picchiare Ma io non ti picchio Se no mi denunci Ma che ti denuncio Non denuncio So che non mi picchia Perché ha pietà Ma ti fa sparare da qualcuno Ma anche perché sei bruttino Quando piangi Sì sì Effettivamente sì Noi giustamente Siamo delle merde Lo sai no Come no Abbiamo clonato La tua voce Abbiamo realizzato Degli scherzi telefonici E' il fango di Wender Quindi Wenderland Con la voce Campionata Di Jake La Furia Vai bene Ciao Nel Wenderland di oggi Verranno utilizzate Le voci di Jake La Furia Ciao a tutti Sono Jake La Furia Avete sentito È proprio lui Sì sono proprio io Cosa devo fare Oggi dovrai chiamare I negozi dove fanno i tatuaggi E dire che vuoi farti fare Un cazzetto cicciotto Con le ali sul piede E il Vesuvio Alla base del pene Che bastardo Buongiorno Pronto ciao Sì mi sente? Sono Jake Sì ciao Come stai? Tutto bene Tutto bene? Sì sì Ok bene Senti ti ho chiamato Perché vorrei farmi un tatuaggio nuovo Non sembro io Vuoi che ti passo Gabriele? Ok Ok dammi un salto Bella Che Gabriele è mio amico? Bella Pronto Come stai? Ciao Jake Come stai? Tutto bene? Ben bellerone Senti ti ho chiamato Perché vorrei farmi un tatuaggio nuovo Eh ma ora ti do il mio numero Allora te lo scrivo Ben bellerone poverino Lo scrivo su Instagram Sì ok Sì ok Ah ok Allora te lo scrivo Vorrei farmi un cazzo sul piede Ah ok Senti il cazzo Lo vorrei un po' cicciotto e con le ali Secondo te è fattibile? Su di te penso che ci può stare Sì Bella Porto un po' di ganja e ci devastiamo Scrivi Ora ti scrivo Ok bene Ok Fantastico non vedo l'ora Ciao Ciao bro Pa 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 Ciao bro babbo Piccino Pronto ciao Buongiorno Sono Jake Ma no Come stai? Ma chiedi i metri Ma io li conosco tutti Questi ragazzi mi avete rovinato Ciao Come stai? Bene tu? Tutto bene? Tutto a posto Senti ti ho chiamato perché vorrei farmi un tatuaggio nuovo Ma scusa posso chiederti che è un nostro cliente? Scusa non ti sto parlando Sono Jake LaFuria Ah bellissimo Ma cosa vorresti fare? Pensare dopo di club dopo Vorrei farmi un cazzo sul piede Allora vieni qua facciamo un preventivo Così lo vediamo e capiamo se ci entra o no Secondo te è fattibile? Certo è tutto fattibile Senti il cazzo Lo vorrei un po' cicciotto e con le ali Ma lo vuoi realistico? Guarda che deve essere perfetto Magari mi fai qualche demo del cazzetto con le ali E poi decido Magari me lo fai tozzo Con la cappella enorme Va bene Allora ci vediamo qui Per passare entro le 7.30 Grazie Fantastico Non vedo l'ora Ciao 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 bro Pa 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 Ma questa gente avete chiamato? Pronto ciao Pronto? Pronto Sono Jake Come stai? Tutto bene? Pronto? Ma questa è ma Ha buttato giù il telefono a Jake la furia Lo stai ostacolando Lui deve assolutamente farsi fare il cazzetto sul piede Vai Jake Fagli vedere cosa vuol dire essere un rapper di quartiere di Milano Buongiorno Buongiorno Ma che cazzo fai cogliona? Mi butti giù il telefono? Ma poi non sembro io È stata Fabri Fibra qua Forse non si sentiva Come stai? Come stai? Grazie Lei? Tutto bene? Tutto bene Mi dica tutto Aveva bisogno di qualche informazione? Senti ti ho chiamato Perché vorrei farmi un tatuaggio nuovo Sì Sì Quando? Dimmi tu Io sono sempre libero Ok Di solito Lei viene qua a tatuarti? Sì sì Ero venuto a farmi il volto di mio zio Beppe Con la croce che cammina per potenza Sì sì Sono già venuto Dovrei farmi un cazzo sul piede Secondo te è fattibile? Sì certo Senti il cazzo Lo vorrei un po' cicciotto e con le ali Il testo ti chiede? Maestro non cito Fantastico Non vedo l'ora Pronto? Pronto Ma chi è? Sono Jake La Furia Sì Per quanto vorrebbe trenatare? Dimmi tu Io sono sempre libero Pronto? Pronto Sono Jake La Furia Come stai? Jake La Furia Senti ti ho chiamato Perché vorrei farmi un tatuaggio nuovo Vorrei farmi un cazzo sul piede Sì E poi vorrei farmi anche il vesuglio in fondo al cazzo Il Vesuvio è fattibile? Se passi in studio ne parliamo Quando posso venire? Quando vuoi Siamo qui oggi fino alle 8 Dimmi tu Io sono sempre libero Vai Ti aspettiamo Siamo qua Porto un po' di ganja e ci devastiamo Ti porto anche il nuovo album dei Club Dogo che spacca Senti l'album nuovo lo vuoi in CD o in vinile? Se ce l'hai in vinile è meglio Ok bene Vai Ti aspettiamo Senti il cazzo lo vorrei un po' cicciotto con le ali Parliamo di quando vieni qui in studio Ok Bella Ciao Ciao bro Po 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 Bravo Wesson Grazie Wesson Che bello sto scherzo a fabri fibra Sì sembrava un po' Però nessuno ha detto no non sei tu No non sei tu Soprattutto la gente che ti conosce Grazie raga Grazie Jake sai che io scherzo sei Però hai fatto un album della Madonna Grazie No veramente spaccati brutto Spendiamoli due minuti per Club Dogo Ma state spaccati Più che altro Più che altro Sai che cosa mi fa dovere È per quello che ho scelto di tatuarmi un cazzetto sul piede Sul piede No in realtà quel cazzetto lì dovrebbe andare un po' a tutti quelli che dicono Eh ormai sono vecchi Dove vuoi che vadano E invece sto cazzo hai visto? Eh Tu come dice J-Hacks ti senti un classico? Ma se io mi sento anche vicino al ritiro Addirittura Perché non l'hai fatto al palazzetto basta 100 date sei pronto Per il rap comunque il dato anagrafico è importante Più che per il pop Per quelle robe lì Cioè Comunque a un certo punto bisogna mollare il cappellino Beh un po' come noi quando andiamo in discoteca sulle mani giù le mani Io quando vedo le foto di Paolo Noiz Che mette Gigi D'Agostino Paolo invece in realtà si è costruito un'immagine da DJ E quello può andare su un palco Sono un classico Fino a 80 anni E Fabio Lisei ubriaco merda davanti ai 15 anni Vestito malissimo Io sono onesto Io prendo un microfono e dico A me la roba di sulle mani giù le mani mi ha rotto il cazzo Non ve la faccio fare Bravo bravo Non vi dico che dovete urlare Perché la trovo una cosa priva di senso Ogni tanto Divertitevi Ogni tanto tra un disco e l'altro Fate finta di divertirvi Basta che non mi rompete i coglioni Che sono già stato pagato È successo della mamma Lo sta scherzando È così La gente piace Sono successo Però l'album veramente era figata Grazie Comunque non ci aspettavamo che fossimo amati E che il ritorno fosse atteso Ma non così tanto Non così tanto Perché gli esternati al forum sono anche fisicamente abbastanza un massacro Le fai tutte Questa cosa ha un po' messo muti in silenzio tutti i vari treppettari Cioè quelli che facevano i grossi Li avete zittiti tutti proprio Io godo I trepper fanno i grossi fra di loro In realtà noi siamo abbastanza rispettati Sì però ti davano un po' del vecchio Di quello dove cazzo è andata No nessuno si è mai permesso Sta cercando di inventarsi una polemica Di zagnare Dai ma quello cosa ha detto Dai dai Non lo sai cosa ti ha detto testa di sugo Che pesa di sugo Grande testa di sugo Sfera e basso Ma no Sfera e basso è un amico Ma va ha detto delle robe su tua mamma Ma ha ragione comunque Gli ho detto io Su mia mamma ha ragione Ma dove stiamo andando Ma invece Jake Come è stato ritrovarsi dopo dieci anni E ricominciare insieme C'era Non da parte nostra Ma da parte dei nostri Diciamo dell'industria C'era grande Preoccupazione Appressione Su questa roba qua In realtà è stato Come se non fosse successo niente Ah bene Ci prendevano dei grossi Airbnb Perché non potevamo andare negli studi Sennò ci sgamavano subito Putane Droga E beh ovvio No qualsiasi martedì sera Che cazzo Infatti Questo durante la settimana Poi weekend peggio Airbnb più grandi Abbiamo lavorato subito benissimo Il disco è stato molto facile da fare Quindi alla grande Ma si sente Non posso proprio dire Non è stata una roba conflittuale Capito Non c'è un grande racconto dietro Come è stato Bene ci siamo divertiti Il disco da paura Come se non avessero i post Visti dal giorno prima Ragazzi glielo chiedo io Volete chiedere Io Quanto merito mi sento Tutti ti vogliono fare una domanda Ma come ha fatto Stefanina a convincere Jake La Calma A fare un featuring Per San Jimmy Perché Jake La Calma Ha poi alzato la sticella Di tutti gli altri featuring Eh sì Come è successo Eh Devo raccontare la verità O ti invento una storia No 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 La verità La verità La verità È pur sempre tua moglie Non sei bravo Ti sembra che gli amici che hai tu Ce li ho anch'io No allora fratello Allora Ti dirò la verità Come tu ben sai Comunque Jack La Calma È molto amico di Paolo Noise Stefanina Per cui Si sono fatte anche le vacanze in montagna Aia Per cui mi ha detto No ma davvero le vacanze in montagna Non le vacanze in montagna Capito No no capito Capito Quello è una volta Quello è una volta Allora Niente è stato facile Stefanina ha alzato il telefono E ha detto Jake Vuoi fare un pezzo con me Per San Jimmy Sì Fine della storia Che storia di merda Ci raccomando Cioè uno si aspetta chissà che cosa Pensavo 50.000 euro No ma perché quando uno è forte nell'industria musicale Sto parlando di Stefanina ovviamente Certo Non ha bisogno Non ha bisogno di grandi manfrine Alza il telefono E via Mi scusi Sono Ragironi Dell'ufficio Borcate e Maneggi Prego prego Vorrei semplicemente riepilogare In modo molto rapido I super ospiti che hanno partecipato A questa Kermess Sì Allora Enrico Papi Con i quali Marco Mazzoli e Paolo Nois hanno fatto un programma Però mi ha messo settimo Settimo Alessandro Borghese Con i quali Paolo Nois e Marco Mazzoli hanno fatto un programma Sì Beppe Vessicchio Con i quali Marco Mazzoli e Paolo Nois hanno fatto un programma Jake La Furia Con i quali Paolo Nois è andato in vacanza in montagna Aia Sì Rovazzi Con i quali Marco Mazzoli convive e divide un rapporto di amicizia Ha realizzato il pezzo E con i quali faranno un programma Aia Allora posso dargli una risposta? Sì Perché la direzione, quella vera Ci ha detto Sono cazzi i vostri Arrangiatevi Chiavate i vostri amici È vero Così è stato Testimonio Sì ma i miei non li ha chiamati nessuno Ma non c'hai amici tu Ma raga Non hai amici Ma perché non esisto Lo sanno tutti che per dire Che cazzo non so Quelli che vanno a Sanremo sono amici di Amadeus È ovvio È così A cominciare la giornata Ragazzi diciamo Noi siamo una mafia Ragazzi siamo in Italia Siamo una mafia Cosa facciamo Allora la proposta di mafia Attenzione È il momento Mettiamo la base per favore Sì Cos'è devo fare È il momento Scusate metto gli occhiali Ragazzi questo Allora Jake sappi Che nelle tue mani Hai Parzialmente il futuro Di questo festival Ma con motivazioni Se vuoi Sì Hai tutto il tempo Dalla settima Cosa facciamo Sì dai Inutile No facciamo così Facciamo sette posizioni Poi mettiamo Il medley E poi facciamo le altre sette posizioni Allora dall'ultima Alla Dall'ultima Alla sette Giusto Sì dall'ultima alla sette E poi mettiamo il medley Ok Dalla quindici Jake Dalla quindici Alla sette Ha capito Vado col titolo Sì vai Faccia che c'hai Quanto ti amo Alla quindici Bello dentro Vincchia Aia Anche il nome dell'artista Non se lo ricordo Parimi zio Bello dentro Bello dentro è l'artista Ah sì Vedi Però poteva essere anche Perché per me Non esiste nessun altro Alla quattordici Sì De pesce No Dai mostro la classifica E adesso la prendete in culo Mi avete fatto Mi avete fatto Gli scherzi telefonici E adesso Bene andate a cagare E adesso chiamo anche le discografiche Faccio Ciao sono Paolo Alisei Sono venuto a scopparmi tua figlia Paolo Alisei Che non si venga a sapere Si fa un Alisei Che è un misto Un misto Vai 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 13 Ludopatia stellare Grande 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 Lo odio Alla 12 Il maestro Pippo Palmieri Porca Sono stabili Sono stabili Non ho soldi Aia 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 Minchia Che ribaltone I dieci scomandamenti Alla 10 Alla 10 Ok Sabrina Sabrina Buono comunque No Alla 11 Alla 10 Alla 10 caro Marco No Il cazzo tocca a te No Sei stronzo Ma come Te lo prendi Te lo prendi Mi lanciano i picchiardi È una hit Mi dispiace Complottista No dai Alla 10 Spiega Spiega Vi ringrazio per la mia ultima partecipazione Nello Zoddy 105 No No Non è uno sportivo Però spiega Voglio sapere perché 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 Arrovazzi mi sta sul cazzo Ma no Cosa vuol dire È così Basta No ma scusa Viva la sincerità Oh raga La classifica mia Faccio quello che cazzo vuol Bravo È un grande ospite È un grande ospite Comunque non è vero Fabio è un amico Oltretutto Sei tu che mi stai sul cazzo Ma come No è vero No è vero No è vero Cioè No No Non vedi gusti Cioè Come dire Minchia Tema Attuale Lo so Il ritornello Che ti prende Io non sono un complottista Io ho tutte le settimane Mi vaccino Per il coppio Così Quinto settimana di fisica Sei tu lo stronzo Che si è fatto Io il martedì vado Prima il cert Sei tu lo stronzo Che si è fatto 270 vaccini Sono io Ok ho capito Prima con i capelli Alla nove appunto Drogati di meno Che è una canzone Ma anche un consiglio Alla otto Magia della Turchia Ok Buono Aia Vado alla sette Poi ci fermiamo No ti devi fermare qua Ok mi fermo qua Poi dopo il medley Sentiamo le prime sette Scusami Ma è normale Che lui adesso Metterà Stefanina in cima Ma è normale Come hai messo I dei pesci in fondo Non hai idea Cioè Mentre il mio ospite Che era Rovazzi È stato È stato giusto Secondo Vabbè su secondo Vediamo Come sono come Prodi Che votava per Berlusconi Sì 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 Comunque Mettiamo gli altri Gli ultimi pezzi Fra che scasca Cazzo in culo Ruggeo e Sabrina E poi dopo Torniamo e scopriamo Quale sono Le prime posizioni Secondo Jake La Furia L'ultima volta Ospite dello Zoll Festival di San Gini 2024 Frapros Docketon Ludopatia stellare Io sono abbastanza D'accordo Ruggero dei timidi L'amore nell'aria L'amore nell'aria Sabrina Bambi I dieci scomandamenti Questi sono i dieci scomandamenti Per non romper il cazzo All'amici e parenti Ragazzi Hai fatto infuriare Rovazzi Rovazzi Mi sta scrivendo Basta no Non esiste A parte Vabbè Qualche bestemietta Prossimo San Gini Facciamo Featuring Elton John Mi ha scritto Pensa che Dalla rabbia Ha rotto una piuma A me mi ha scritto Ritratta subito Ah non l'ha presa Proprio in gara Beh ragazzi Allora io gli ho detto Scusami Dobbiamo Dobbiamo taroccare Il più possibile Lui conosce tutti Sai che tu parli con Rovazzi E ti dice Il Papa Il Papa Mico mio fratello L'altro giorno L'altro giorno Ha difeso Bill Gates Se ti ricordi Ma chi? Guglielmo No William Eppure dico Allora ragazzi Posso chiedere due cose Anzi Devo dire due cose La prima è Che se Comunque sentendo questi spoiler Se viene la CIA Siete fottuti Perché? Eh perché stanno tutti Un po' dei tarocchi Poi Sono tarocchi Guarda la faccia di Bippo Guarda la faccia di Bippo Seconda è Allora scusami Siamo amici da tanto tempo Ma l'anno prossimo Non posso fare un pezzo mio? Certo che puoi Posso partecipare? Certo Ma io faccio il giudice Ci sono Vado? Ok Con lo pseudonimo di Jake La Calma E ho un altro Sì Allora lo faccio Siete tutti noi L'anno prossimo partecipo Io Non lo sto Però ci sto ripensando Abbiamo alzato ulteriormente La sticella ragazzi Ci sto ripensando però Perché sai Sentirsi comunque dire All'undicesima posizione Forse non puoi Volendo Vale tutto in questo festival Potresti anche cambiare la calcifica in corsa Se vuoi Guardi che sono ancora qui mio caro concorrente Lei chi è mi scusi Quello che le ha dato dei punti Buongiorno Lei è una bellissima persona Lo faccio a finire Devo chiedere al direttore Vada 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 Vado avanti Scusate Accetto Sapete che io ho una certa sensibilità matematica Però grazie alle votazioni di Jake La Furia Ci aspetta un weekend molto più denso Perché avendo messo molto in basso Chi aveva posizioni di classifica migliori Ha reso il weekend potenzialmente molto interessante per i voti Mi scusi ma io che cazzo ci sto a fare qua Ma non lo so Quindi allora Appena ha ammesso di aver pilotato le votazioni del signor No no la pilotate mia moglie Prego Proporrei 5 punti per la capacità del pilotato Che schifo Stefanina Bravissima Vado avanti Vado avanti Vado avanti Il messaggio è che comunque un pompino di un'ora e venti è illegale È importante Si guadagna la settima posizione Il nostro amico Zizzetto Vado avanti con frappè al cioccolato dei golosi No Sei l'unico che non l'ha messo sotto la posizione 13 No perché comunque l'anal è sottovalutato Hai ragione Hai ragione Poteva chiamarlo troppi ricordi Non da voi due Però è sottovalutato L'altro insieme Esatto Human sentipede Che schifo Fabio Alisee e Paolo Nois che cagano l'uno nella bocca dell'altro Basta Siamo in diretta tv Viva la merda Un attimo Diamo la possibilità a Cologno di ingrandire ulteriormente il pallino rosso Adesso di 5 centimetri Io cerco sempre di far guadagnare una settimana di ferie Grazie E due di carcere Basta Ragazzi dopo Andiamo con comunque un messaggio per i giovani Dopo quello che hai detto Pippo senza glutine Ah va bene Esatto Perché comunque sono amico di Filippo Tanto No no è Wender e Lucilla Secondo me Filippo Tanto Detto Pippo Tanto Allora poi c'è L'amore nell'aria L'amore nell'aria Anche posizione scusa Alla 4 Alla 4 Perché Ruggero è un grande Un grande Una scrittura Un grande storyteller Fallo finire Dai Tu sei una scrittura da infame però La scritta tu No Una scrittura molto femminile La scritta io No La scritta Stefanina Ma scusi Truffarsi Questo è truffare Ragazzi mi fate finire l'ospite Il problema non si pone Perché Stefanina non sa scrivere Dai vai vai avanti Vado avanti Prego Numero 3 De Scambisti Ah bravo Bravissima Che è bella E che è un messaggio molto importante Soprattutto in questi tempi Che è Viva la figa Viva la figa Bravissimo E un po' in tutte le canzioni Sì Vabbè Ma non in tutte nel mondo Quindi diciamo che Questo contenitore Ci tiene a ribadire Numero 2 Numero 2 Il super direttore Paolo Noi Che schifo Dai Grazie Grazie Sì Grande È bellissimo Grazie Che schifo Che è anche comunque uno dei miei messaggi preferiti E primo Primo è stata dura Che schifo È stata dura Io mi appello Mi scusi Primo posto chi È stata dura a decidere Ma A grande richiesta Alla numero 1 Di mia classifica C'è La tromba di Stefanina Featuring Jack Calma Io grido Allo scandalo Mi scusi Mi appello Al 27esimo emendamento Ma perché scusi Ovvero Che sua moglie è una stronza Lo proprio lo scrive la costituzione Allora Diene lo stronzo anche all'altro Che ha cantato la canzone Lei è uno stronzo Bisogna dirlo all'artista Si trasformi nell'artista Si trasformi nell'artista C'è una maschera di Iron Man Ce l'ho di là Lei è uno stronzo Mi scusi Ma anche lei Razzironi Volevo semplicemente dire all'ospite del giorno Che almeno Rovazzi si era messo a secondo Eh che cazzo Minimo di buon gusto Di Bazzi Ma io non ce l'ho il buon gusto Questo è vero Cioè Soprattutto sono in combutta con Paolo Noi Cioè Il minimo del buon gusto Proprio a livello più basso Però è interessante questa cosa Scusi direttore Mi trovi in una situazione un po' Raga è pettinato come Mutu Dopo che l'hanno squalificato per una barella Mi perdoni signor Jake Devo mettere un po' di ordine Perché cosa sta succedendo? Si che sua moglie ha truffato Ma nessuno è riuscito a truffare Sulle votazioni Telegram Perché abbiamo finalmente attivato l'IP Quindi se la sono presa nel Q Mi perdoni Lei è molto furbo e astuto Molto furbo Perché lei bloccando così il modo di truccare Esatto E portando in studio il signor Come l'ultimo ospite Jake La Calma Come l'ultimo ospite E storpiando tutta la classifica Lei sta barando in maniera scudorata No Io sto conducendo un grande festival E lo dimostra la classifica Fabio Fabio Io 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 Com'è la classifica adesso scusa? Eh lo sappiamo La classifica giornata Tra l'altro a proposito Tra un minuto chiude il sondaggio su Telegram Che riaprirà alle 16 Ma io su Telegram guardo solamente donne nude e gente che si uccide Adesso voti anche Voti nello stesso video Vuoi dirlo tu le tizze in qualità di conduttrice? Beh la frase classica di quando si chiude il Televoto Ah si vorrei grazie Prego prego Allora Stop al Televoto Sì Dimmi pure Stavo dicendo mi scusi Dobbiamo coalizzarci contro questa infamia Perché mi sembra veramente allucinare Ma lei nutre ancora Nel frattempo guarda Paolo Facciamo sparire tutto qua Mi scusi mi scusi Un attimo solo Se ando solo io e lei Sì sì Non ci sente nessuno Non ci sente nessuno Mi pare chiaro È ovvio Che la signorina Stefanina Certo Abbia portato giustamente il venerdì Quando il signor Truffazzi Nonché suo marito Sì sì Ha cambiato tutto il meccanismo di voto Bloccando la possibilità di truffare Dopo che tutti hanno truffato Sì Quindi hanno storpiato la classifica E il bastardo di merda Sì sì Qui non passerò mai più il disco in vita Sì Sai cosa si dice Truffa bene chi truffa ultimo Le voglio dire una cosa Sì dica Avvocato Ma anche Marco Mazzoni Sì È la prima volta per lei Sì Ci si abitua L'hai abituato Mazzoni ci si abitua E si prende sportivamente Ma scusate ragazzi Io posso dire una cosa Prego 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 ma anche interno Sì sì Alla fine San Jimmy deve essere come Lo scopone scientifico No no Deve essere come Sanremo Deve essere chi è più bravo a rubare Non è chi è più bravo a giocare E sennò Quello è il divertimento È vero C'erebbe banale Alla fine è tutto così Grignani 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 Ci dobbiamo fermare un secondo Torniamo tra poco Mare in faccia Adesso durante la pubblicità Mica Stefanina Cosa ti combino stasera Ti cago nel piatto Te lo giuro Che paghi tu Tutto questo e ancora peggio È San Jimmy 2024 Il festival Che nessuno ci ha chiesto Festival di San Jimmy 2024 Pippo Palmieri Non ho soldi Johnny Mele Drogati di meno Drogati di meno Che sei tutto scemo Drogati di meno De Pesce Call Center De Pesce Call Center E so che si sente Quando sfero al telefono Non vi chiamate più Guarda come gioisce Quell'infame là dietro È l'unico modo Che va per taroccare Che schifo Ma di chi sei parlando Della regina Della musica urban Jake la truffa Ti hanno soprannominato La musica urban Comunque devo dire Che ti amano molto I nostri ascoltatori Ti amano male Ti amano molto A parte qualcuno Che dice Insomma sei palesemente Un truffatore Jake sei una merda È tra quelli che lo amano Sì 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 Non l'ha scritto nessuno Non è vero Non è vero Amano tutti Ragazzi siamo Quasi in chiusura Però se non sbaglio Studio Aperto Ci ha chiesto la linea Per un aggiornamento Anche oggi Siamo in diretta televisiva Sul 66 Non so se ci sono le immagini Sarà anche l'ultima volta Che lo siamo Ricordiamo Sentiamo Buonasera Rottami Dalla vostra domenica di sabato Hanno chiesto a me Di condurre questa edizione Speciale di Studio Chiuso Per l'intervista esclusiva Ad uno degli artisti Più influenti del mondo Una donna che potrebbe Realmente ribaltare I risultati Del festival di San Gimmi Ai nostri Efficiente È sbagliato Stoppalo Tutta persona Non vuol dire deficiente Sei brutto Wey 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 Non ha soldi No è il bello della diretta Lo sai che è un po' Ragazzi non parlate tutti insieme Vi prego È una roba fastidiosa Non si capisce un cazzo Questo sbaglia a caricare le robe Quanto vi odio Mamma mia Ehi wey 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 Cosa E questo c'è No quello non è quello giusto Te l'ho caricato io oggi Eh vabbè ma Pippo Hai rovinato Pippo Stai rovinando la diretta L'atmosfera Pippo l'altro giorno Ho visto che tuo figlio Lavora al ristorante Sì dimmi quale Secondo me devi andare Hai trovato o no No non c'è Come non c'è Non l'hai caricato L'ho caricato Il solito posto Sicuro che non hai fatto come ieri Che l'hai messo nella tua cartella Al posto di quella della diretta Per sbaglio Mi viene un dubbio Oddio potrebbe essere Potrebbe essere No perché sei lì Lo recuperiamo Dai l'ho trovato L'ho trovato Non era in quella cartella Lì neanche oggi Ma scusami Ma te l'ho detto sette volte Vai a cercarlo Sempre colpa mia Scusate Complutista Cinque punti a Marco Mazzoli Perché non si prende Le sue responsabilità Perfetto grazie Che senso Gli ho dato cinque punti Ma le ho dato dello stronzo Ah grazie Prego Apprezzo molto Prego Ci colleghiamo Prego Scusate per l'interruzione Di questo programma di merda Adatto solo a persone Con lo stesso quoziente intellettivo Di uno stronzo di cane Ma abbiamo un'altra intervista Esclusiva Potrebbe cambiare Le sorti del festival E ribaltare i risultati Ci colleghiamo Con il nostro inviato Arturo Sculaccia Sorche Che si trova a Chiareggio Emilia Per intervistare Una star del mondo Dello spettacolo A te la linea Arturo Sì buonasera Salve La chiamo La chiamo Dalla redazione Di studio aperto Senta volevo chiedere Una cosa velocissima Un sondaggio La chiamo Da studio aperto Il telegiornale Signor Che cos'è Che cos'è Signor Ennio Volevo sapere Lei Lei ha avuto modo Di guardare Il festival Di San Gimmi Durante la chiacchierata Con questa star Del jet set Reggiano Il signor Ennio Con la doppia Agnecci Ha voluto esprimere Senza alcun suggerimento E senza essere imboccato La sua preferenza Al festival Di San Gimmi 2024 Sentiamolo Evidente che Marco Mazzoli Sia il favorito Di questo festival E tutti gli altri Glielo possono solo baciare Senza infamia E senza indugio Vi saluto E ricordate di votare Complottista Altrimenti passerete Un anno di sfiga assurda Complottista Andiamo a burale Andiamo a burale Perché per tenerlo Al telefono Gli devi dire Dopo andiamo a burrare Andiamo a dire Che tra i vecchi problematici Vai forte Spacco Spacco di brutto Ma andiamo a burrare Nel senso La borra No Antonella La borra No La colazione all'inglese Sì Non dopo ti porto a burrare Siamo in diretta tv Per l'ultima volta Ho detto burrare Burrare C'è il burraco Burraco Non siete curiosi Di sapere la classifica No Sì A questo punto No Perché se non me Sono delle sorprese No No Io c'ho paura Vabbè Chi è che Chi è che Chi è che mi vuole sostituire Chi è che vuole Vabbè dai Gerry Sentiamo Attenzione Allora Salta il merlo Salta anche la rana E chi non salta E chi non salta è un figlio Di sultana Sultana Ma soprattutto saltano i nervi In questo ultimo collegamento Della settimana con la sala stampa Del festival di San Jimmy Questo in attesa di conoscere Gli esiti definitivi della classifica Che agiterà le notti Dei nostri artisti Per tutto il fine settimana Come è ampiamente previsto Dal nostro ufficio Magheggi e Intrallazzi La fiera del raggiro Di queste ultime battute Ha scosso la graduatoria Come un ciuffo di peli Sul lenzuolo Di un motel economico Che schifo Creiamo dunque Un clima di tensione Rarefatta Tipo quando devi mollarne una In un ascensore affollante E scopriamo insieme Il verdetto definitivo Di questa ultima puntata Posizione numero 15 Frappè al cioccolato I golosi Tanto per cambiare Vedi che l'anal è sottovalutato Numero 4 Hai ragione Jake Cazzo Numero 14 Pare mi zio Bello dentro Numero 13 Un'ora e venti Briei Peccato Numero 12 L'amore è nell'aria Ruggero dei timidi Numero 11 Non ho soldi condanti Pippo Palmieri Numero 10 Equilibristi Descambisti Numero 9 Pippo Senza glutine Numero 8 Ludopatia stellare Frapros Docketon Oh l'ho pronunciato bene Sto giro Bravo bravo Perché l'hai letto Numero 7 I dieci scomandamenti Sabrina Bambi Numero 6 Magia della Turchia Paolino e Martina Rimontato un pello Numero 5 Attenzione La Tromba La Tromba No Sabrina Stefanina e featuring Jack La Calma Numero 4 Complottista Ritiretito Marco Mazzoli Il podio Il podio Gradino più basso Numero 3 Fanculo 2000 Paolo Noi Spaz E il DJ Ross Attenzione Attenzione No Medaglia d'argento Numero 2 Call center De Pesce No Vince Dragati di meno Johnny Mele Scar E Malfri Viva Scar Cazzo E' fatta E' fatta E' fattissima E' fattissima Come disse Armani Guardando Kate Moss Prima di una sfilata Non resta che Trattenere il fiato Fino a lunedì Per conoscere il volto Dei vincitori Di quest'anno Dunque Buon fine settimana A tutti E votate 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 A bientù Allora Aspetta Aspetta Allora Alle 16 Si riapre il televoto Fino alle 13 e 30 Di lunedì 11 marzo Sulla pagina telegram Cioè Jake Hai stuprato La classifica Ebbè questo era L'intento Hai violentato La classifica Però non è così Disequilibrata Rispetto a quello Che pensavamo E' corretta E' corretta Dal principio Però Diciamo La top Di Johnny Mele Mi fa venire in mente Che comunque Vedi che rubare Porta Cioè Rubare fa risultato Ragazzi Attenzione Abbiamo due metodi Per rivaltare la classifica Che questa volta Sono serio tutti Di ascoltori dello zoo Dovete impegnarvi In questa cosa Uno è streammare pesante Cioè Fare tanti ascolti Su streaming Di Spotify E andare sulla pagina Telegram L'isola dello zoo Perché lì Rimane aperto Per tutto il weekend Qui possono fare Quello che vogliono Tutto Se volete rubare Per il vostro artista preferito Fatelo Non credo Riuscirete Posso dire una cosa Certo Allora Se vincesse la canzone Di Johnny Si Drogati di meno Non licenziamo No Lo dico sinceramente Sarei molto contento Perché sono due anni Che Dargen Deve vincere il festival E con questa canzone qua Non è riuscito a vincere L'anno scorso A Sanremo Potrebbe riuscire a vincere Quest'anno Ciao Dargen Sei il numero uno Però se posso Ci sta Povero Johnny Ultimo Tutte le edizioni Di San Jimmy Ultimo Sì però scusami Gli anni passati Le faceva lui Le canzoni Quest'anno Si è Ah ma che tu no Scusa Ma infatti È stata un'enorme Intelligenza di scelta Di featuring Quest'anno Io ho proprio scandaloso Quest'anno L'elettorazione è bellissima Ma l'ho fatta io Ma che c'entra Sei stato astuto Nel coinvolto Solo i De Pesce Continuano a fare Tutto in modo artigianale Come un vecchio Produttore di stracchini Ed è per quello Che perdete Comunque facciamo Un applauso Alla sala stampa Che ci lascia Sulle votazioni Grazie Grazie a Gerry Nomano La chicca Ti odio Stefanina Brava Notaia Grazie a Jake Lafuria Grazie a voi ragazzi Ti voglio bene Comunque ragazzi Essendo una classifica Cecena Vincerà Paolo Noisa Sicuro Grazie a Puccioni Grazie Oh buon tour Grazie Buone date Auguroni Speriamo che vai benissimo Ah dai Abbiamo già venduti tutti i biglietti Jake Biglietti Tanta chiacchia Io faccio giovedì Se vuoi venire Però fai una roba Ci dai tipo 5 biglietti Da regalare agli ascoltatori Sì Va bene Però Non ti può fare Ah cazzo È difficile farlo tra di noi Scusate ragazzi Rubo un secondo Perché l'abbiamo promesso A un ascoltatore Che ieri è venuto A vederci Prima che ci fosse la proiezione C'è un ultimatum in corso Il rifugio Questo rifugio Che si chiama ultimatum È in grave Eh? Si chiama Yaya Land Ah si chiama Pensavo ultimatum No ultimatum È ultimatum L'avviso Ah pensavo fosse Il latino Rifaccio Il rifugio è in grave pericolo Dobbiamo sgomberare il luogo Dove siamo adesso In 20 giorni In quanto la struttura Non è a norma Chiedono aiuto Altrimenti tutti i cani Che hanno Che sono centinaia Verranno deportati Quindi andate su Rifugio.yaya I-A-I-A Yaya Land Su Instagram E se potete Date una mano Lo faremo anche noi Noi lo postiamo Sulle storie Dello zoo di 105 official Così potete andare a vedere Il link Io ho convinto Si chiamasse ultimatum Cioè tra l'altro Volevo È un po' brutto È un po' brutto Un po' da lager In effetti Si Volevano chiamarlo Caput Rifugio Caput Guardate non salte Quindi Quindi Lunedì Decreteremo il vincitore A che ora? È in apertura Di programma Alle 13.30 Si chiudono le votazioni Ai conteggi E da lì Poi so cazzi Ultimo dato 570.000 streaming Minchia Veri eh Tutte? Tutte? Sì ma nessuno ce l'ha chiesto Una cosa importante L'anno scorso Non ero presente Se ho vinto Sì Io lunedì non ci sarò No Pippo no E vince No Pippo no Solo in diretta Ho capito ma se vinci due volte tu Bisogna andare a vedere cosa è successo Ciao 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 Pippo dove vai? Ciao 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 Dove vai? Ciao ciao Dove vai?